Ecco dalla Minerva ancora all'interno degli imballaggi specifici per opere d'arte che varca la soglia del palazzo di Fraternita e torna dunque ad Arezzo. La statua, un bronzo etrusco ritrovato nel 1541 nella chiesa di San Lorenzo ad Arezzo, sarà la madrina simbolica del tanto atteso Museo dell'Oro, anche se guai a chiamarlo così. È un percorso espositivo, i tesori di Arezzo, che comprende ben 80 rarissimi esempi dell'arte orafaretina. Il percorso che è iniziato nel lontano 1987 quando gli allora vertici della Camera di Commercio e di quello che si chiamava centraffari pensarono di dare uno stimolo e un approccio diverso a quello che era il nostro distritto orafo che allora aveva oltre 2000 imprese. Un approccio, un percorso verso la qualità e verso l'eccellenza e sono stati appunto fatta questa contaminazione con il comparto della moda, tanto da oggi avere oltre 300 pezzi disegnati tra l'altro da importanti stilisti, architetti nazionali e internazionali e che hanno dato quell'ulteriore passo in più che oggi consentono al settore orafo della nostra città, della nostra provincia di essere riconosciuto anche non soltanto dal punto di vista della quantità ma soprattutto della qualità. La Minerva Signum aprirà questo percorso e rimarrà nella nostra città, evento unico in assoluto fino ad ottobre. È la dea dell'ingegno, l'ingegno guida queste mani che trasformano l'oro in gioiello, che trasformano in passato l'argilla in ceramica, che trasformano il rame dei Monti Rognosi in bronzo. L'ingegno ci deve guidare, quindi il ritorno della Minerva è un ritorno verso un orizzonte futuro dominato dal capitale umano e dall'ingegno. Il genio sloci del popolo di Arezzo è proprio l'ingegno. Quello che è importante è anche di vedere questo matrimonio tra la cultura e l'industria e l'artigianato, le mani che lavorano. Questo connubio deve essere il nuovo orizzonte per la nostra città di Arezzo.